Lidia Menapace è stata premata come personalità politica altoatesina del 2018. Lo ha deciso il direttivo di Politica, società di scienza politica dell'Alto Adige, presieduta dal professore Günther Pallaver, in riconoscimento alla ex senatrice partigiana che ha da poco compiuto 95 anni e è stato consegnato ieri nella sala di rappresentanza del vecchio municipio di Via Portici a Bolzano.